Tutta Italia nuovamente in zona rossa fino al 3 gennaio. Un nuovo lockdown per contenere i contagi e prevenire assembramenti per festeggiare il Capodanno. Unica eccezione il prolungamento del coprifuoco dalle 5 alle 7 del mattino, ma solo per domani. Le feste sono vietate nei locali pubblici e nei luoghi privati, ovunque rimane il divieto di assembramento. Anche il cenone sarà ridimensionato. Ogni abitazione potrà ospitare al massimo due persone, parenti, amici o fidanzati, oltre ai figli minori di 14 anni. Dormire a casa dell'ospitante è possibile solo per due persone, distanziamento e mascherine quando non si mangia, da evitare buffet e piatti di portata condivisi. Le forze dell'ordine saranno impegnate massicciamente nel controllo di parti fuori legge o cenoni affollati. Verranno messi in campo, secondo il Viminale, circa 70.000 uomini. Pattuglia è pronta a intervenire anche sulla base di segnalazioni di vicini di casa. Un italiano su due, secondo un sondaggio, sarebbe pronto a denunciare ogni violazione. Per chi viola le regole, multe fino a 1.000 euro. Ma sì, c'è anche i controlli sui botti. A Roma è stata emanata un'ordinanza che li vieta. Lo stesso hanno fatto altri comuni. Controlli serrati anche sulle autocertificazioni. Non si potrà uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità, ma con un'eccezione importante. Sarà possibile andare a far visita a parenti, fidanzati e amici, ma solo una volta al giorno, fra le ore 5 e le ore 22. Chiusi i negozi, restano aperti gli esercizi di prima necessità. Niente ristoranti, bar e pasticcerie, ma si potrà ordinare a domicilio o per l'asporto entro le 22.